se voi leggete l'antico testamento che chiamiamo libro sacro ma che forse non ha molto di sacro dentro è pieno di un dio da temere di un dio che si arrabbia di un dio che vuole vederti sacrificare pronta a sgozzare tuo figlio se lui te lo chiede voi immaginate di stare con una moglie e ti dice se mi ami sei pronta a sgozzare nostro figlio ma questa scelta c'è davvero no nel nuovo testamento nelle parole del grande maestro dei maestri che si festeggia a natale c'è un dio che ti serve che è amore che non devi tu servirlo offrirgli sacrifici distruggerti ma è un dio che ti dà l'abbondanza è un dio che proprio ti fa come dice le mie parole del vangelo ti è lui che viene da te non sei tu che lo raggiungi facendo chissà cosa no e penso che sia questa una cosa potentissima proprio l'apertura che all'epoca dava così fastidio no un dio non da temere un dio c'è questa parola che tanti considerano belli no i timorati di dio pensate un figlio che teme il padre o la madre credo che quei genitori non siano dei bravi educatori no soprattutto non hanno dato al figlio l'amore perché se c'è amore per un figlio come può il figlio temere la madre il padre così come se come possiamo aver vissuto per secoli una religione che parla di temere dio no poi ci sono alcuni non ho veramente la parola temere vuol dire avere rispetto no forse un po rimangono ancora attaccati alle paroline giuste no questa cosa molto molto profonda e chiudo con una storiella che non mi ricordo chi la raccontava ballester la raccontava ma diceva che gli aveva raccontato toni de mello toni de mello e ballester erano amici ma magari toni de mello l'ha presa da una tradizione probabilmente induista quindi scusatemi se se non so la radice di questa storia so solo però che è bellissima riguarda tutti noi e c'è un guru un vero guru che ha un allievo che va a vivere lontano e l'allievo gli dice maestro ti scriverò sempre e è una storia molto lunga io la faccio un po breve riceve la lettera il maestro che a fianco di sei un altro allievo lì per lì e legge la lettera alta voce insieme all'allievo e la lettera dell'altro allievo che gli scrive da un tema dice maestro in questo mese di distanza ho realizzato ciò che davvero è importante il maestro dice all'altro allievo non è pronto non è pronto l'altro allievo dice ho scritto una cosa bellissima altro mese perché non c'era un email nei whatsapp arriva un'altra lettera oggi maestro ho realizzato il moksha oltre samsara il maestro legge questa cosa bellissima e dice all'altro allievo non è pronto non è pronto dopo un mese arriva io la vado breve vado su tre lettere mi sembra balla si raccontava otto nove lettere arriva un'altra lettera dopo un altro mese maestro ho realizzato la non forma prima era attaccata le forme ma ora realizzato la non forma che è una cosa bellissima il maestro guarda l'altro allievo e fa non è pronto non è pronto passa un altro mese e non arriva la lettera dell'allievo il maestro chiede all'allievo che sta facendo Antonio laggiù ma non lo so va bene aspettiamo un altro po' passa un altro mese e non arriva più una lettera e chiede ma Antonio che fa non ho più scritto e l'allievo che è vicino al maestro dice al maestro maestro posso scrivergli io dimmi tu cosa vuoi che gli scriva e il maestro dice allora scrivigli e chiedigli cosa è realizzato in questi due mesi che non ti abbiamo sentito mandano questa lettera e dopo un po' arriva la lettera di Antonio l'ultima lettera maestro l'apre e ride finalmente l'allievo che gli avvicino vede il maestro ridere il maestro che annuisce dice ora sì ora sì allora l'allievo curioso dice chissà che c'è scritto perché nell'altra lettere c'erano scritte tutte cose bellissime no allora l'allievo prende la lettera al maestro e legge cosa importa punto interrogativo sta eseguendo prima nelle lettere dell'allievo ho realizzato questo ho realizzato quell'altro ma era tutto contenuto mentale era come se io mi chiedo chi sono io sono questo sono dio sono energia sono 432 hertz tutte le cosette di un age sono questo sono quest'altro no ma è ancora un contenuto mentale poi non dice più nulla e allora il maestro gli chiede come va che cosa è realizzato in questo periodo non mi è più scritto cosa è realizzato e quando l'allievo risponde cosa importa l'allievo dice il maestro dice ora è realizzato bene cari amici portiamoci questa storiella natalizia e non natalizia magari a fianco a pantori panettoni ma anche nella nostra vita quotidiana portiamocela anche nel silenzio e ora se volete facciamo un minuto di pausa e poi meditiamo insieme grazie a tutti grazie a tutti